Gira anche tu il mondo con gli zaini scuola di Violetta Sono con i fantastici zaini di Violetta Viaggi dove vuoi come una vera vlog E hai subito le cucchie para orecchie di Ear Per ascoltare le tue canzoni preferite Zaino, astuccio, diario Per essere davvero trendi anche a scuola Zaini scuola Violetta Grazie